shayla gatta e lorenzo spolverato hanno preso parte al grande fratello spagnolo esprimendo apertamente i loro sentimenti l'uno per l'altro la ballerina ha ammesso di essersi innamorata di lorenzo mentre quest'ultimo ha parlato del forte legame che li unisce dopo un mese di incertezze tra lorenzo e javier shayla ha confessato di seguire il suo cuore e di non riuscire a resistere allo sguardo dispolverato il ritorno dei due concorrenti in italia si prospetta interessante con shayla che dovrà affrontare javier e gli altri coinquilini venuti a conoscenza dei baci scambiati con l'argentino la complicità tra shayla e lorenzo sembra essere sempre più evidente con gesti affettuosi sia prima di dormire che al risveglio ora la domanda è cosa riserverà il futuro per questa coppia non resta che attendere il ritorno dei due concorrenti nella casa più spiata d'italia il prossimo lunedì 28 ottobre per scoprire come si evolverà la situazione tra shayla lorenzo e javier restate sintonizzati per non perdervi i prossimi sviluppi di questa storia d'amore